Bella a tutti ragazzi, ho avuto questo nuovo video qui con voi sempre il vostro noot player e siamo anche per un ospite speciale che sarebbe Marchi04 Ciao Bella ragazzi Ma che cazzo è questo? Oh ma vattene affa- Ah sono andato Allora ragazzi in questo video volevo vedere come guida Marcello Do il tuo video joystick a non premere mai questo pulsacchio Ehm come la vede? Non è che quindi come la vede? Ma io che sto fatto? Ho nato tutta l'unità E tu stai vede a me la vecchietta di 90 Non c'era la vecchietta di 90 che sei già più allingata Ehm come qua Ma mi c'è una bocca? Ma c'è? Oh Ma cazzo vai la vecchietta di 90 anni eh? Non le sai cambiare strada? Ho fatto un ruolo di cazzo Bravo Non me la vecchietta di 95 anni questa Oh dai venne il rorino E tutto il resto qui ha a due Molto 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 A me l'importante è divertirlo Sono bravo Ho visto che questa qui è una sfida Io ho trovato l'idea più da me Sì ma Divertivo Eh ma questa è una sfida? Non lo so Marcello è l'eroe nazionale a fare tutti Vai Io Mamma fa le interferenze Faccio la dormita vai Faccio il giro Giusto? La sinistra è direttamente da qua Rinco spastico Alla gollum No dai preferisco fare il giro più lungo Ragazzi Sono una vecchietta di 90 anni Ah mo capisco Ecco preferisco fare il giro Ah mo capisco Mo si capisce tutto Dato che tu ci sono una vecchietta Allora io preferisco fare il giro più lungo Visto che è vecchietta Il giro più lungo Il giro più lungo Il giro più lungo Ehm Ehm Io non do precedenza Sappiatelo raga L'ho fatto apposta Perché non do precedenza agli altri Devo arrivare sempre prima Arrivati Ehm 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 Sì Sì Ehm Sì Ma c'è 5 Oh se tu mai hai messo 2 lami Che vuoi? Oh 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 Si vede? Quella vecchietta di 100 anni C'è un vecchietta di 150 anni C'è un vecchietta di 150 anni Ah Eh Allora lui La vecchietta di 150 anni Ah Oh Eh All'anima del per Dio Oh 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 C'è Ragazzi ma guardate Stavo guardati C'è ma guardate Che rosicoli Stavo guardati Che rosicone Stavo guardati Stavo guardati Stavo guardati Stavo guardati Stavo guardati Ma guardate Ma tu hai trovato Poi dice che sono peggio io Ehm Infatti sei peggio Ma c'è Io sto Cioè Tu non mi distrave Ma rosicone Tu sai mi distravermi che dici Ehm Ma tu guardami Ma tu guardami lo schermo Io guardo a te Infatti non mi guardavo Ehm Stavo guardando io stavo una curva con gli oltre ho sbagliato quello via tu la vedi che la sbagliato via cioè l'hai ripresa quanto porti gli occhiali? uno la via principale quanto porti gli occhiali? uno la via principale è quella se ho problemi quanto porti gli occhiali? la via se ho problemi allora ragazzi lui gli occhiali porta due è meglio se li mette cinque è meglio che portaci è brutto il problema gli occhiali oh ma che voglio sto fronzo i know the drill ok? calm down i'm doing my best veloce 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 mi è piaciuta molto sempre eh io non ho scelto la GTA 6 non ho scelto non ho scelto è GTA eh fantastico non ho scelto non ho scelto vedo l'ora che uscirà GTA 6 però gli stanno ancora a fare la mappa da narco dove uscì il ottobre gli stanno ancora a fare la mappa cercami ma dove uscì il 2006 no no dove uscì il 2006 e comunque lasciamo perdere la mappa per farla due anni pensate poi quando andrete a vedere quanto sarà grande la mappa come sarà il triplo del GTA 5 ragazzi ma questi deficienti frosh di merda della rockstar quando cazzo è che mettono le rapine in banca in banca cioè sì perché migliori se in banca tanto te fotti un botto di soldi tipo quanti milioni un milione ti danno a voglia un milione ragazzi questa qui è casa mia allora ragazzi volevo dire che io casa mia l'ho presa proprio qui per avere il panorama vediamo se siete spasso a scartare i regali vedete che bella vista ma ci facciamo una canna a tirare il bong in prima persona rega vai mamma me lo carmine come sto parla napoletano ma c'è fai fingere se è drogato parla napoletano no dai non me va ragazzi lui è napoletano forte dai parla napoletano non riesco a parlare italiano non parla non parlo il giapponese cazzo non so come si farà il giapponese non lo scioglottere tutto parla giapponese io ho robacinesi robacinesi buona buona robacinesi ma questo non si sa manco fumare il bongo è come così il bongo e il fuoco si mette lontano ma c'è ma tu devi capire che se lo metti dentro il fuoco entra dentro il costo mi brucia la faccia oh che ne so come si usa il bongo si usa con le mani o la bocca ho trovato due ma non serve le mani alla bocca non serve solo a usare il bongo ragazzi le mani alla bocca non serve le mani alla bocca non servono solo a usare il bongo servono anche cinsurare bene ragazzi spero che l'episodio di oggi possa venire qui ragazzi nel prossimo episodio farò giocare Marcello e io mi ricordo di essere un mi piace e iscrivervi al credito non l'avete già fatto e Marcello saluta ciao bella ragazzi ciao bella ragazzi ciao bella ragazzi ciao bella ciao bella